All'esperienza umana di Gesù di questi 40 giorni, che si ritira nel deserto perché deve decidere come interpretare il suo essere figlio di Dio, come realizzare la sua missione di diunto del Signore, come salvare il mondo, quale strategia, quale modo per mostrare agli uomini il volto di Dio, quale linguaggio utilizzare, quali gesti compiere per comunicare la volontà di Dio agli altri. C'erano tante aspettative di Messia a quel tempo. E allora sicuramente Gesù si è preso un periodo di rigiuno, cioè fuori tutto, via tutto, perché a volte le cose che ci sono intorno possono essere distrutte.